L'onorevole Ottobre è seduto su un letto desolatamente vuoto della casa di cura Eremo dopo un'ispezione parlamentare. Cos'è successo? Sì, oggi ho avuto la segnalazione da parte di un dipendente preoccupato della struttura Eremo, quindi non sono stato contattato dai titolari eccetera, che mi ha detto che non è mai successo che hanno circa quasi 43 posti letto libero. Cosa vuol dire questa? Questa è l'applicazione della delibera di Zeni e di Rossi, dell'assessore provinciale della salute e di Rossi, evidentemente nessuno dei due autonomisti, che ha deciso di depotenziare queste strutture private, partendo da Eremo, partendo da San Pacrazio, partendo da altre strutture. Quindi per chi conosce questo lavoro, un po' in politica l'accreditamento di un posto letto, quindi un posto letto come questo vuoto, corrisponde a un posto di lavoro. Ecco che qui, se il buongiorno si vede dal mattino, dobbiamo essere preoccupati per questa situazione. Ma è interessante sapere che invece è stato incentivato questa struttura a cercare i pazienti trentini che si sono fatti operare fuori regione, quindi dovrebbero fare il giro dell'ospedale, a cercare i trentini con l'anternino, e se tu che ti sei fatto operare fuori regione dovresti venire qua. Prima hanno incentivato, rispetto a un trentino, un veneto, un lombardo, in questa struttura poteva rimanere una settimana di più, rispetto, evidentemente, tre settimane, rispetto alle due che i trentini. Oggi i trentini devono sapere che avranno meno possibilità di venire, essere ricoverati in queste strutture private, dove, guarda caso, loro non solo sono sempre la rincerca, l'avanguardia, dove hanno il primato livello nazionale come una migliore riabilitazione, hanno anche una politica attenta del territorio, usano prodotti locali, il nostro olio, la nostra acqua, le verdure della Val di Gresta, che mi ricordo, insomma, uno che viene qua sembra di stare in un albergo. Ciliegina sulla torta, Zeni, invece di tagliare evidentemente ciò che li costa di più nella sanità, quindi un posto letto pubblico, li costa 756 euro rispetto ai 250 che costano queste strutture al giorno. E guarda caso che poi a fine anno Erimo ancora guadagna. Invece queste cose, Zeni, queste domande non se le fa, ma attenzione che il costo pubblico, così elevato, non è per colpa dei dipendenti, eccetera, è evidente che sono costi di manutenzione, strutture pubbliche che sono collegate ad altre cose che invece i privati hanno evidentemente più facilità, per esempio nella gestione delle manutenzioni e quelle cose lì. Quindi qui non è contro il pubblico, è contro che invece uno dovrebbe dire di fronte ai 50 milioni investiti a Vilerosa potevano farli fare altre attività. Invece hanno deciso di tagliare i 250 euro al giorno contro i 756, perché Zeni evidentemente di Pergine è dovuto fare questa marchetta elettorale a suo vantaggio. Da questa visita ministeriale ha potuto constatare un senso di preoccupazione da parte dei dipendenti? Ma sì, i dipendenti non se lo aspettavano di questa mia visita, ho ascoltato anch'io le loro provocazioni, hanno detto chiaramente che è la prima volta che succede una cosa del genere e quindi io provvederò a fare una denuncia alla procura dei conti provinciali, perché quando si incentiva questo tipo di politica evidentemente bisognerebbe anche capire che forse qualche soldino pubblico si risparmia. 43 posti liberi alla casa di cura Eremo, una situazione che non era mai successa? Mai successa in 30 anni di lavoro, fino ad oggi insomma, mai successa. Veramente siamo preoccupatissimi. E quindi da quanto perdura questa situazione? Allora perdura da più di un mese, da ferragosto praticamente, da più di un mese e veramente non sappiamo cosa fare, cosa pensare, perché siamo veramente preoccupati. Tutto il personale è preoccupato e vogliamo capire cosa è successo, che altro. Voi ospitate pazienti logicamente da fuori regione, perché questa è la direttiva imposta dalla provincia e i Trentini nulla. Allora, noi ospitiamo soprattutto da fuori provincia e per fortuna arrivano i pazienti fuori provincia perché altrimenti qui chiuderemo, nel senso che se aspettiamo i Trentini noi veramente avremo molti di più posti liberi e qui si dovrebbe chiudere veramente. Per cui abbiamo una percentuale altissima di fuori provincia e purtroppo pochissimi da Trento, di Trentini. E la prospettiva è che questa situazione è logicamente per duri. E la preoccupazione è proprio questa, che siccome dura da più di un mese abbiamo la preoccupazione che duri ancora di più e di conseguenza finire l'anno con veramente dei tragici numeri più che altro. e che qualche dipendente purtroppo venga anche licenziato perché giustamente il privato dice non posso tenere tanto personale per e non ho i pazienti che arrivano. La preoccupazione è anche questa. Da parte della casa di cura Eremo c'è preoccupazione anche a livello economico per questa mancanza, per questi posti letti vuoti. Ovviamente la preoccupazione è generale, quindi a tutti i livelli, non è solo economico ma anche di prospettiva per il futuro. E' evidente che questa situazione non si è mai verificata, io sono qui da circa 20 anni e quindi ti fa vedere un futuro a tinte un po' scure. Questa è un po' la situazione. Quanti dipendenti ci sono alla casa di cura Eremo? I dipendenti sono circa 150, i quali si aggiungono tutti i liberi professionisti e varie società che operano all'interno della struttura, quindi diciamo che direttamente in struttura operano circa 250 persone. Più ovviamente l'indotto, quindi le società esterne che fanno le manutenzioni. Il perdurare di questa situazione può portare a scelte anche drastiche? Guardi, io non glielo so dire, nel senso che queste sono decisioni che competono al Consiglio dell'amministrazione, quindi in effetti questa domanda dovrebbe essere posta all'amministratore delegato. Ripeto, la preoccupazione c'è, avete potuto vedere un sacco di stanze vuote e questo denota il fatto che i pazienti non ce ne sono. E quindi, ripeto, preoccupazione per il futuro c'è, poi le scelte competono al Consiglio dell'amministrazione.